e con noi Mercoledì 11 maggio, San Fabio Martire è il 131esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 234 al termine il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 20.30 la luna si leva alle 14.52 e tramonta alle 3.44 viene disposto che il Bollador Ducal cioè colui che suggella le lettere pubbliche non deve saper né leggere né scrivere la determinazione verrà peraltro abrogata il 20 febbraio 1502 le previsioni per domani al mattino sereno o poco nuvoloso nel corso del pomeriggio tendenza a sviluppo di addensamenti cumuliformi sulle zone montane e nord orientali della pianura non si esclude qualche piovasco sulle zone montane durante le ore centrali temperature minime in aumento massime stazionarie con la prima volta a 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 la prima volta a